La pelle che abito di un animale strano mi si rivolta contro, ma piano, piano Non vuole farmi male, forse è solo un segnale, inizio a rallentare, se no mi ferma lei Con me, con me, con me, abitare la mia pelle, respirare veramente, finalmente corpo e mente Assieme con me, ascoltare ogni pulsione, trasformarla in emozione, vivere Scopo d'essere forte, che so quanto sono fragile, un uomo senza limite, un uomo senza sorte Ma è poca ringraziare, anche se fa male, ammettere di perdere, per imparare Con me, con me, con me, abitare la mia pelle, respirare veramente, finalmente corpo e mente Assieme con me, ascoltare ogni pulsione, trasformarla in emozione, vivere La pelle che abito in vecchio Mi insegna a usare il tempo, mi limita in tutto, ma così io sciargo Scelgo la tua pelle, anche se non serve, anche se è inutile, dolce e fragile Con me, con me, con me, con me, abitare la mia pelle, respirare veramente, finalmente corpo e mente Assieme con me, ascoltare ogni pulsione, trasformarla in emozione, vivere Ciao a tutti, benvenuti a Balconi TV Trento, oggi con noi best off, grandi ragazzi Complimenti Grazie mille, ciao a tutti Grazie, ciao Vuoi presentarci la band? Assolutamente sì Max Avesani e la batteria Ciao a tutti Poi abbiamo Matteo Vallicella al basso Ciao E è il meno funzionale alla band, in verità, come si può intuire Però lo teniamo perché il look ricorda un personaggio famoso E allora fa figo Quindi serve sempre l'uomo immagine nel look Tu l'hai detto Assolutamente Io sono Samuel Rossin Nostro leader Con l'applauso del... Meno funzionale però quantomeno, dai, supporto c'è È un po' simpatico, a piccole dosi è un po' simpatico Ah dici che è un po' ironico questo applauso? No, no, no Il titolo della canzone che avete appena eseguito è? La pelle che abito E parla? Vuoi raccontarci qualcosa? Assolutamente Allora, ve lo spiego con un esempio Come potete vedere e sentire, oggi sono un po' ammalato Si vede dai miei occhi Eccoli qua Basta così E parla di quando il collegamento tra mente e corpo viene a mancare Quando il dialogo non c'è più Nel mio caso dovevo fermarmi E ho continuato Il mio corpo mi diceva Basta, basta, fermati E non c'è stato verso E quindi mi ha segato le gambe di brutto E sono stato a letto tre giorni Oggi è il primo giorno che esco Quindi la pelle che abito È il nostro corpo Che dovremmo ascoltare un po' di più E che il messaggio è abbastanza chiaro Questa canzone per adesso è un'esclusiva di Balconi TV Ma a breve sappiamo O almeno il prima possibile Invece dovrebbe essere sul vostro nuovo album Assolutamente Stiamo lavorando al nuovo disco Stiamo lavorando con un produttore E speriamo di entrare prestissimo in studio di registrazione Vorremmo pubblicare l'album prima di fine anno E speriamo di riuscirci Abbiamo parecchi brani E questo è uno di quelli Che sicuramente finirà nel disco Però oggi in anteprima per voi Beh, non possiamo che esserne contenti comunque Oltre al disco che dovrebbe uscire comunque quest'anno Avete già un lavoro discografico Assolutamente Matteo ve lo spiega Io cerco il disco Questo è il nostro primo disco In realtà secondo Però il primo era di cover Quindi non vale E il disco come si può mostrare la nostra valletta Max Si chiama Via Bellissimo disco Bellissimo packaging Sempre di canzoni in italiano Stava a essere una televendita È registrato nel 2015 All'interno ci sono un sacco di amici, di ospiti Tra cui Ernestico Rodriguez Che è un percussionista bravissimo cubano Che però sta a Vicenza Non si sa perché E che ha suonato con Pino Daniele Con Giovanotti Con Pat Metini E Rostramazzotti Chi più ne metta E con voi? E con noi È una discesa clamorosa della sua carriera musicale Però un amico ci ha fatto questo enorme piacere È a posto Non so cos'altro dire Beh direi che mi hai convinto a prenderlo Se volessi prendere o ascoltare il resto del disco Dove posso trovarlo? Allora Per prendere il disco Venite ai nostri concerti La musica ha bisogno dei concerti E abbiamo bisogno di voi per fare i concerti Tutti voi Popolo dell'internet E poi per trovarci Ci siamo in tutte le principali piattaforme social E streaming musicale Come Spotify eccetera E ci trovate su Facebook ovviamente Instagram eccetera Come dicevo E sul web bestofficial.com Allora Best Of si scrive Tutto attaccato con due F Due F Che oggi suona malissimo F F F F F di Firenze Famiglia Famiglia Fidelità Siamo una band molto attaccata alla famiglia Esatto La figura materna Non solo alle vostre famiglie Anche a quelle degli altri componenti Sì È una grande famiglia allargata Best Of Salutiamo le mamme Ciao mamme Ciao mamma Tutte le vostre Come dicevo Best Of Tutto attaccato con due F Di famiglia Best Official.com Best Official.com È il nostro sito Ci trovate lì Perfetto Direi che abbiamo detto tutto per oggi Grazie di essere stati con noi Davvero Grazie a voi Grazie mille Gentilissimi Grazie davvero a voi Ringraziamo Balconi TV Ringraziamo il Rifugio Bindisi Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao